La prima giornata operazione raccogliamoci qui a Guardavalle Marina su Viale Europa e a Guardavalle Centro davanti a Piazza Municipio. La raccolta sarà dedicata al multimateriale, dunque raccolta di vetro e di plastica e lattine. Un'operazione che vede coinvolta l'amministrazione comunale insieme a Giovanni Montepone, come sempre volontario e volenteroso per quanto riguarda tutte queste questioni, è molto sensibile alla questione ambientale e Garzoni Tagazio oggi con noi per la rappresentanza della ditta MEA, Manne Ecologia ed Ambiente. L'invito è dunque a partecipare a questa raccolta e a venire numerosi a differenziare questo prodotto prezioso. Io vi invito a sfruttare questi due giorni, siamo oggi e domani, domani e domenica dalle 8 alle 12.30, oggi dalle 8.30 fino alle 19.30. Anche una bottiglia va bene, perché pensate, se solo a Guardavalle Marina siamo circa mille famiglie, io penso che oggi anche una bottiglia la consumiamo tutti, o di plastico o di vetro e quindi sono mille bottiglie. Quindi questo è il nostro impegno, di stimolare di più e di venire qui a fare questa, ad iniziare veramente a parlare di raccolta differenziata. L'altro invito è per il 23 e il 24 se non sbaglio, facciamo la raccolta della carta e cartone, sempre qui, via l'Europa e a Guardavalle dove c'è il piazzale del Comune. Quindi siamo qua, grazie di tutto e vi aspettiamo qua. Grazie e buona giornata.